Ciao a tutti ragazzi sono Denk e in questo video volevo farvi vedere come sarà l'edizione limitata cioè la pre-order di FIFA 13. Allora innanzitutto andiamo ad aprire il nostro browser e volevo dirvi una cosa prima di farvi vedere questo video. Allora ho aperto un nuovo canale che si chiama appunto Denk dove farò molti video di FIFA 12 e quando uscirà anche FIFA 13. Per favore iscrivetevi e grazie se lo fate. Ora andiamo a vedere subito come sarà il pre-order. Allora nel FIFA Ultimate Team avremo 24 pacchetti Gold cioè quelli d'oro e ne avremo pure uno alla settimana gratis per 24 settimane. E così aiuterete la vostra squadra a creare delle superstar e molte altre cose. Poi c'è questo football club pre-order dove riceveremo in più 10.000 crediti, sempre l' Ultimate Team. E li potremmo usare come vogliamo noi. In più c'è l'Adidas al star team che praticamente riceverete un bacchetto al star che comprende alcuni dei migliori giocatori e tra questi è incluso appunto Messi, Nani, Benzema e molti altri. Tutto questo sarà disponibile sulla PlayStation 3, Xbox 360, la PSP, Nintendo 3DS, la PS2, la Wii, la PlayStation Vita e anche tutti gli altri. Per prenotare clicchiamo su quest'immagine e vediamo i vari siti. Per esempio su Origin, su GameStop, Amazon, Multiplayer.com, la Feltrinelli, su Fnac, su Game, su MediaWorld e anche su Euronics. Vi consiglio di usare questo pre-order perché è veramente una cosa molto conveniente e penso che questa edizione si aggira attorno ai 50 o 60 euro. Spero che questo video vi sia piaciuto, ciao a tutti e vi lascio con un trailer di FIFA 12. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.